Se tu a mogli un giorno, esco senza velo e vado vestita come una ragazza normale, tu che fai? Io prendo un coltello, un coltello, ha messo qua e che viene per morire. Tu la uccideresti? Certo, devi prendere il coltello e messo così, devo morire. C'è una ragazza che si chiama Saman, pakistana, Ari che è stata uccisa dalla sua famiglia e perché non voleva sposarsi con l'uomo che avevano scelto per lei. Avvicino. Io non... Sempile... Non sa di cosa si parla. Non è interessante. No, ma sono domande, non devo... Niente, non piace zero, vai fuori. Ah, ok. Tu sei sposato? No. La tua famiglia ha già una donna per te? Una famiglia cercana per me, dopo io penso, io rispetto nella famiglia. Non è così, non è come qua. Non è come prima? Sì. Non è così, 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 non è così. È la famiglia che sceglie, di solito gli 80%, però il 20% si scelgono loro da soli. Questa è il tradizionale della nostra cultura. Roma decide. E la donna si dice, io non mi voglio sposare con lui? Non si può fare. Prego, prego. Ciao. I paesi, diciamo, questi non sono ancora, se non sono educati, questi non possono rifiutare perché forzano che si può dare un ragazzo per forza. E le ragazze che si dice, no, che mi minacciano. Poi tante volte che tanti muoiono, perché dicono io che amo un'altra persona, allora mi piccano da soli. Tu a che età ti sei sposato? 26 anni. E tua moglie quant'anni aveva? 15 anni. Perché tu? Un po' vent'anni. Io 31 anni. 10 anni prima. Ok, quindi tu avevi 21 anni. E tua moglie? Quanti? 13. Perché la nostra? La nostra è troppo diversa. Voglio di rispettare per... Il marito? Io faccio il lavoro. Lui fare il lavoro di casa. La moglie non deve fare che no. A me dare massaggio? Sì. Devi dare che cosa ti mangi? Devi subito cucinare. Non devi parlare qualcosa che no. Se una donna dice no, quello non lo voglio sposare. Non lo posso. Perché questa è la vergogna. Come legge? Questa è la vergogna. Perché è haram. Se la ragazza vuole scappare e dire no, io voglio vivere europea. Cioè succede che la famiglia... Ecco, la legge che fa... Adesso dice ecco, le leggi del Corano, questo così. Questo devi prendere, devi morire. Devi morire, non morire col cos'è, sul sangue. Pietra, pietra, pietra. Lapidata. Lapidata. Perché questa è la patta. Sì, questa è la patta.